Ciao ragazze, sono Angela, responsabile del negozio Miami Capo Bologna via Larga. Ci trovate dentro la galleria dei cinti commerciali di fronte all'ingresso del supermercato. In questo momento ci stiamo preparando per il Cosmoprof, vi aspettavo numerose anche lì. Intanto noi organizziamo tanti eventi presso il negozio e anche fuori. Facciamo tanti trucchi personalizzati, aperi, trucco, anche le dimostrazioni di make up nel locale. Quindi ci divertiamo sempre, non vendiamo semplicemente il make up ma facciamo tante cose carine. Siamo aperti da aprile del 2015, vendiamo prodotti tutti made in Italy, i poli ergenici, non testati su animali e testati esclusivamente al laboratorio. Abbiamo la pagina Facebook Mia Make Up Bologna via Larga. Se volete andare a visitare ci sono tanti commenti riguardo il nostro negozio, il nostro tempo vendita, le ragazze che lavorano qua e anche tante foto degli eventi, quello che facciamo e anche trucchi personalizzati. perché nel negozio abbiamo tutto staff ed elettricatrici, non soltanto venditrici. Quindi vi aspettano tanti cucchi di consigli per valorizzare il nostro negozio. E' sempre l'indipendentere. Eccoci qua, ci stiamo assistendo una seduta di make up personalizzata. Ciao! Ciao, hi! Come ti trovi in questo negozio? Come ti trovi con questo prodotto? Io davvero amico Mia Make Up, è fantastico e è davvero buona, davvero davvero buona, davvero davvero buona, davvero buona, davvero buona. Grazie mille! Ciao, sono Monica, sono una truccatrice e mi trovate all'interno del negozio di Mia Make Up, qui dentro al centro commerciale di Bologna via Larga e sono qui per voi, per darvi tantissimi consigli sui prodotti, su come valorizzare il proprio viso, con me potrete scegliere il colore più adatto per il vostro occhio, il prodotto migliore per il vostro tipo di pelle, vi potrò dare consigli su come utilizzare i prodotti o meno, su come valorizzare la forma del vostro viso e chi più ne ha, chi più ne metta. Potete chiedermi qualsiasi cosa inerente a questo mondo e a questo punto, visto che non so più cosa dire, vi presento la mia fantastica collega, che adesso arriverà in questo momento, quindi vieni, 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 bellissima, notare la bronzatura, e lei ci prendono come due veline, fondamentalmente siamo un po' come lo ying e lo yang, no? Sì! Lo inentati! Ciao, sono Ali, mi trovate all'interno del negozio Mia Make Up e anche io potrei aiutarle a darvi dei consigli, utili per il viso, per le labbra, per il vostro trucco di ogni giorno, quindi truccatissime, truccatissime! Quindi niente, vi aspettiamo qua da Mia Make Up Bologna via larga! Ciao! Qui stiamo utilizzando il rossetto Kiss Me, che è un rossetto oppacco, che aiuta a coprire tutte le imperfezioni delle labbra, effetto mate, e si trovano anche in altre tonalità, quindi il rosso più chiaro e il rosso più oscuro, ed è molto bello! Vi presentiamo la nostra BB Cream, è il top del top! Lei la usa già nella vostra BB? Sì, mi piace molto, come si trova? Mi trovo molto bene e dopo utilizzarla non riesco più a non metterla, ho bisogno proprio di utilizzarla. È un ottimo prodotto? È un ottimo prodotto, sì! Quindi, ragazzi, vi aspettiamo tutti qua, in questo bellissimo angolo di paradiso, per darvi tanti consigli utili e divertirci tanto! Mia Make Up! でした! È una docente! I ragazzi... ...dì questa è una docente! Tutto la mia importanza è un'ottima rinvenza! È una docente!